La scelta di collaborare con Oikos risale a una dozzina d'anni fa circa quando siamo entrati un pochettino in punta di piedi nel mondo del colore. La ragione principale è stata il consorzio Uniedi, di cui facciamo parte, all'interno del quale alcuni consociati utilizzavano già Oikos come fornitore. Ascoltando e raccogliendo i loro pareri ci hanno indicato questa strada per iniziare questa nuova avventura. I vantaggi sono stati sicuramente legati alla qualità del prodotto. Le proposte Oikos sono sempre innovative e votate al discorso ecologico del prodotto Impatto Zero che oggi come oggi è una formula vincente. Soprattutto anche il servizio che dà Oikos, in particolare con i loro tecnici che sono sempre puntuali nell'aiutarci e nel cercare di accogliere al meglio quelle che sono le problematiche esposte dal cliente. Noi da quando abbiamo iniziato a collaborare con Oikos i fatturati sono saliti in modo graduale anno dopo anno. A distanza di circa due mesi dall'apertura del nostro nuovo showroom abbiamo avuto il piacere di riscontrare dei nuovi ingressi, di vedere delle facce nuove. Una delle particolarità di questo nuovo sistema espositivo è quella di dare già dei cenni affinché il cliente riesca intuitivamente a capire di cosa possa avere bisogno e di quello che può essere la nostra offerta. I sistemi espositivi, le campionature all'interno della nostra area invogliano decisamente la curiosità e la voglia di acquisto da parte del privato. La parte di fatturato che il privato realizza possiamo indicarlo in circa 30%, sta crescendo in modo costante, oscillazioni variabili da un anno all'altro dal 3% all'8%. I cantieri nuovi ce ne sono sempre di meno e quindi bisogna cercare di non perdere il passo rivolgendoci a quella parte di mercato che fino a qualche tempo fa veniva un pochettino più trascurata. I servizi che offriamo assieme al nostro fornitore Oikos sono servizi soprattutto mirati al sopralluogo di cantieri che presentano delle criticità, quindi rivolti al professionista che può essere il decoratore o l'impresa, ma anche al privato che ha magari delle pareti particolari all'interno della propria abitazione e sui quali vuole applicare una nuova decorazione. Ecco, è qui che Oikos fa la differenza grazie a quello che è il servizio che dà e che assieme a lei anche noi riusciamo a dare, grazie ai tecnici da lei formati. Grazie a tutti.